Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su Hogwarts Legacy e in questa missione andremo a seguire la missione principale appunto Ecco, la bacchetta perfetta, quindi siamo qui da Ollivander, quindi siamo a Hogsmeade E vediamo questa bacchetta, sono molto 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 curiosa Andiamo, aspetta, iniziamo la missione Giovino, giovino, relativamente Ma quanto è bellino Mi ha detto che ti serve una bacchetta speciale e che mi avresti portato tu i materiali Sì signore, eccoli qui Oh cielo, straordinario, è davvero insolito Sarò sincero, non ho mai realizzato una bacchetta così Ne ho riparate, quello sì, ma è tutt'altra cosa Mi vuoi mettere davvero alla prova, eh? Penso di poter lavorare con quanto da te fornitomi Vedremo cosa riesco a fare Vai, faccio vedere Dobbiamo aspettare anche qui? No, ok Come esplode tutto Perché c'è le ciglia bionde questa qui? Ho finito Grandissimo Che figa Devo avvisarti Non ho mai visto una bacchetta come questa Sospetto che, come suggeriva il professor Fig nella sua lettera Sia concepita per uno scopo ben preciso E che sia inutile per qualsiasi altra cosa Ho capito La ringrazio Eccolo Che te pareva? Non c'è nessuno ad aiutarti ora Ho organizzato un incontro faccia a faccia Molto e gonfio Non c'è bisogno di fare scenate Visto quel che sa ora Runrock Sarai concorde che i nostri interessi sono allineati I nostri interessi non saranno mai allineati Esatto Lasceresti che i goblin Si prendano ciò che ci spetta Il deposito finale Appartiene alla stirpe magica E da sciocchi non collaborare Puntè Cosa nascondi lì? Questa visita da Ollivander avrà forse a che fare con la nostra ricerca comune? Non so di cosa tu stia parlando Quel deposito è mio Di diritto Non è quello che Charles Rookwood avrebbe voluto Dai piccialo Che arroganza Non avrei dovuto provare a ragionare con una mocciosa Lo dico sempre I bambini devono essere visti e non uditi Ma ci hanno rapito o... Non ho capito O ci hanno salvato Ah ok Ora si che mi diverso Eh? Prego Allora Aiutaci Chi è? Mamma mia che abilità raga Yeah Ah è messo fatta Perché la banana proprio Bombarda Che ne pensi delle dettagli città? Expolso Comprindo Mi sto solo scaldando Ok Ok Effette Mentre lancia Reducto Sconfiggio il nemico Con Petrificus Totalus E come faccio? Tiro verso di te Due nemici Contemporaneamente Questo si può fare Aspetta eh Lo avviciniamo Eccoli A posto Aspetta che te lancio Ne hai avuto abbastanza Oh ma quanti ne escono? Sono solo sti due Grandissimo E' stato bravo Mamma mori Uh Ficcata Che avado che davro io Ciccio Ah Che delizio Nessuno si accorgerà Della tua mancanza Ai Faccio la mano Ah Dai Oh Cura che Dai questo Dai Ah Chi ho preso? Nessuno Ma siete dei maledetti Proprio Dai Ah Cacchio Quello è Mezzo morto Dai Dai Dov'è Victor Rockwood? Non c'è scudo Che tenga Tempo di pareggiare Ma è lì Merdicchia Ah oh 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 Sa decarmi tutti Boni E' un po' Troppa gente Per i miei gusti Però Dov'è sto stronzo Eccolo Dammi la mano Gicce va Piuttosto che Questa maffa No Ai No Sono agilissimo Peccato Che non è che Risponda così bene Ecco Perfetto Perfetto Aridagliala Mamma mia Sacco di drop Questa era Tipo un'arena Questa era tipo un'arena Ma quanta roba Pia Pia Casse Questa ci piace Dove sta qui dentro Ottimo Controllo 3 Fuori c'è altra gente La sblocchiamo Intanto Ok Così ce l'abbiamo Sbloccata Bene Una sta laggiù Però Una stava anche Di là Eh infatti Qui dentro Un sacco De roba Regà Una Ah è proprio Fuori Sluido Da qua su Non c'è niente Non c'è niente Fallissimi E dai Primo E Poi di qua c'è altra gente Io la farei fuori Un attimino Dov'è la cassa Che ho visto prima Era qua dentro No Qui Ok Non ha un nome Molto appropriato Secondo me Cos'era quel rumore E' una pizza Sono fatta colpire lo stesso Gli animali Gli animali Corrono meno Rischi Adesso Pocca serratura Di livello Faccio Lo apro Non vorrei Faccia parte Di qualche Missione Picciolino E' bellissimo Dove stiamo qui Qua su Io aspetterei Perché Non si sa mai Sire del tesoro Uno di uno Ok Non si sa mai Se c'è Una qualche Missione Dopo Non vorrei Che Baga tutto Non l'hanno previsto Non si sa mai Quindi Qui il deposito Finale Io direi Giovini Che intanto Mi recoli Alla sala Delle mappe Anzi Prima vado a vendere Un po' di roba Perché abbiamo raccolto Una marea di cose Quindi Vado a raccogliere Vado a vendere Un po' di roba Dopodiché Continuerò Con la quest Principale Quindi ci vediamo Direttamente Nella prossima Puntata Quindi come al solito Mi raccomando Iscrivetevi E attivate la campanella Commentate Condividete Lasciate un bel like Grazie mille Alla prossima